Adesso Di Maio è il ministro degli esseri di uno dei paesi più importanti d'Europa, l'Italia, che si deve rimangiare tutto quello che ha detto. Ma se le è già di fatto rimangiate, ha appoggiato addirittura la von der Leyen nel suo tentativo di diventare il più importante rappresentante dell'Unione Europea. La registrazione che avete proposto agli ascoltatori è la prova del fatto che era inevitabile che il governo giallo-verde fallisse. Perché il dato politico della situazione europea è che l'Europa è costretta a cambiare. L'Europa è stretta da una guerra commerciale di Trump contro la Cina che porta in Europa a recessione, colpisce l'industria tedesca e per quota parte quella italiana e stretta da una politica nei confronti della Federal Reserve di Trump che vuole usare il dollaro come strumento dell'America First e questo significa un attacco alla moneta e all'economia europea. E di fatto sta cambiando. I tedeschi sono costretti a investire 50 miliardi mentre il surplus saranno tenuti da parte e i benefici di questi 50 miliardi vanno da noi. Macron non è lo stesso del tempo passato. è andato addirittura ad aprire un fronte con Putin e ora, meglio che Salvini, l'ha aperto lui il fronte con Putin e poi c'è stato anche lo scambio di prigionieri in Ucraina e ora è disposto a credere nel governo italiano. In sostanza l'Italia alla fine ha bisogno di questa Europa e non può rischiare di fare da sola perché da sola nel confronto globale sarebbe pochissima cosa. Da questo punto di vista si apre una fase nuova. Dopodiché, permettimi di aggiungere, non è che l'instabilità, le difficoltà, le ridicolaggini, come ha detto qualcuno, non io, italiane, siano solo italiane. Il Macron che arriva oggi a Roma è un'altra persona. Allora, ha sbattuto il muso contro i gilets jaunes e ci ha messo tanta acqua nel suo vino. Però è sempre l'uomo della finanza e quindi vuole la riforma delle retrette, delle pensioni. E lì è difficile. E in Francia sono stati già scioperi, manifestazioni. Ci sono, ci saranno, quindi sbatte di nuovo lì. E' intervenuto ieri in Francia dicendo che sui migranti la linea sarà durissima. Ha detto queste frasi che sarebbero potute essere dette dalla Bergonzoni. Ha detto che i borghesi non hanno il problema dei migranti, mentre i proletari sì. Allora noi proponiamo una linea inflessibile. Infine, ti faccio sapere che sono stati assolti a Lione, un tribunale, poi si parla degli tribunali italiani, ci sono anche tribunali francesi, i decrochers. Sai cosa sono i decrochers? I decrochers sono delle persone, in genere ecologistiche, che hanno avuto un ottimo risultato alle elezioni, che staccano le immagini del Presidente della Repubblica dai municipi perché non ha una politica ecologica. Quindi c'è una fortissima stabilità. Se io dovessi fare la sintesi e finisco, direi che l'Europa sta profondamente cambiando, senza però una linea che la guidi nel cambiamento.